e che c'è dopo dopo ok ok già ciao adesso lo prendiamo lo portiamo di là andiamo no no lascia ok lo mettiamo qui insieme alla gherode che cosa dunque così e troppo lo mangiamo già e non lo puoi ma e ok ora ti do un pezzetto aspetta va buono finocchio eh buono già davanti buono buono già da sì buono vai 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 mangio anch'io un pezzettino dai piano bravo bravo oh no bravo oh no bravo oh no bravo oh no